ciao a tutti da roberto gaudieri channel ragazzi oggi siamo fuori dall'azienda come vedete siamo nel parcheggio perché ragazzi guardate qua cosa abbiamo ford f-150 l'icona pickup americana di concorrenza del dojo ram ragazzi io sono già innamorato non vuoi mollare stai qui con me bellissimo ragazzi cosa abbiamo fatto oggi andiamo a chiederlo al proprietario ciao ciao tuo nome maurizio ciao maurizio domanda che facciamo sempre tutti perché sei venuto da me maurizio è perché tu sei il top di gamma poca miseria hai di quelle lampadine eccezionali ottimo bene quindi sei venuto giustamente a me perché non hai trovato nessuno bene da dove vieni maurin io abito qua vicino meno male maurizio è venuto da pochi chilometri bene cosa siamo andati a fare su questo bellissimo ford f-150 di maurizio che è sempre il top di gamma anche lui perché questo è un mezzo aziendale per il suo lavoro che adesso poi andremo a scoprire che cosa combina maurizio ford top accessoriato top sono stati fatti l'unica cosa che c'era da fare i fendi nebbia kit kri fine serie in base h16 ed è completato questo bellissimo ford perché è tutto completamente a led come vedete poi abbiamo fatto anche una cosa interessante andiamo a vedere che cosa fa maurizio andiamo a vedere cosa fa maurizio eccolo qua andiamo a vedere cosa fa maurizio la bagliante andiamo a vedere anche la bagliante ma la cosa più più figa è assolutamente un'altra cosa per il suo lavoro andiamo a vedere che che lavoro fa maurizio ma cosa fa maurizio ma fa maurizio con questo mezzo mastodontico andiamo a vedere allora ragazzi tanto per dirvi una piccola informazione il signor magisburghi riesce arrivare dove gli altri non arrivano guardate anche video ispezione speciale in hd quindi lavoriamo con della tecnologia e dei macchinari molto costosi che ovviamente ha solo maurizio per poter arrivare in punti dove gli altri non arrivano lui arriva con il suo bellissimo ford f150 cosa molto importante ovviamente è un grande professionista cosa abbiamo fatto andiamo a vedere ancora spurghi di magi una cosa interessante questa bellissimo faro di ispezione visto che lui lavora h24 abbiamo fatto il kit sirio su questo bellissimo prodotto in base h3 per poter lavorare nell'ispezione i tombini in qualsiasi punto dove maurizio ha bisogno di lavorare con estrema precisione in estrema luce abbiamo fatto questa bellissima conversione assolutamente top ragazzi come maurizio è chiaro andiamo a vedere di qua saltiamo di qua saltiamo di là e torniamo sul bellissimo ford f150 ragazzi che dire abbiamo finito e concluso tutto io vi aspetto in sede a san zenone all'ambra in via primo maggio al civico 16 la zona sud milano elettro segno meno di scan.com dove trovate lo shop online ragazzi vi aspetto in sede ciao ciao